Ma lo vuoi capire che io non sono più un bambino? E che sei? Un uomo? Certo, non c'è più bisogno che mi fai da mamma. Marco qui, Marco là, Marco hai mangiato, Marco hai fatto la cacca, e che cazzo no! E questo è ringraziamento per tutti i sacrifici che ho fatto per te. Ma lo sai che se non era per me potevi essere un alfabeta, un delinquente, un drogato? Pure l'aziale potevi diventare.